buonasera ragazzi siamo qua con la coppia di Gaia Clerici la scherza ecco la naschina è vero io tanto quella roba lì non ne possiamo parlare tanto ormai acqua passata saliva anzi è passata scambio di saliva insomma in un bacio per forza un bacio stampo beh c'è comunque saliva sulle labbra non so no io sbavo allora io non l'avevo vista l'ho vista il giorno dopo perché non ero qua e ho visto che ti sei limonata a Diego allora no mi sono limonata a Diego hai avuto un rapporto orale con Diego hai detto così hai avuto gli hai fatto un cioè aspetta gli hai dato un baciotto ti ha dato un baciotto ti ha dato un baciotto come hai percepito questa cosa cioè come ti sei sentita nel momento in cui il re del punk pop ha dato un bacio a Tina Clerici allora perché ti ha baciato due volte tutto in live veramente la prima volta in realtà perché lui mi fa un bacio anche tu perché ci stavano baciando tutti e tu hai detto sì ma io non pensavo che mi avrebbe baciata veramente capito quindi ero un attimo tipo what cioè perché è nel live capito la seconda volta grave perché mi ha proprio trovato a limonare quindi ero tipo no e niente ma ha messo ha messo la lingua quando io se fosse una ragazza e Diego mi dasse un bacio direi ok il treno sta passando devo prenderlo al volo ma a me non c'è io non ci starei con Diego no no ma non dico fidanzarti no no non ci starei a letto ho capito come mai non mi piace non ti piacciono i tatu no mi piace cioè il senso gli voglio bene è stra carino però boh non non ti dà quelle vibes del dire voglio succhiarglielo scusami no non me le dà non me le dà ok quindi è stata mano alzata 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 fanocina nauseata пог Police i